Ciao ragazzi, grazie di essere qui con noi oggi. Allora, oggi sarà un video super 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 richiesto in cui farò un semplice, diciamo più che massaggio alla schiena, farò un po' di scratching, un po' di tracing, ho anche dei pennelli per fare un po' di brushing e ho anche un algeggino cinese per fare una specie di massaggio. Adesso raccogliamo i capelli, che lei ne ha tanti e lunghi e poi iniziamo con la schiena. So che in molti sarete invidiosi della mia amica, però lei si lamenta sempre. Faccio un'attrezza. Ok, grazie. E li portiamo da una parte, così abbiamo un po' il collo libero. e cominciamo con un po' di scratching con le mie unghia sulla parte superiore della schiena, che secondo me è sempre con un po' più sensibile ai grattini. perché si stesse chiedendo perché sto parlando a bassa voce, la risposta è che questo è un video, quindi questo è un video con lo scopo principale di provocarti i famosi prevedini. Quelli che ad esempio si possono provare, o si provavano quando da piccoli ci facevamo i grattini alla schiena, così. ok 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 adesso prima di provare a scrivere un po' di parole, facciamo un po' di disegno, facciamo un po' di onde del mare, sonore ok 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 ecco ok 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 Alla prossima. Con tanti tanti raggi. E una nuvola. Come oggi, un tempo un po' manovoloso, un soleggiato manovoloso. Alla prossima. E un po' manovoloso. E un po' manovoloso. E un po' manovoloso. Ti piace? Per essere molto scontati. E... 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 Un po' di tapping leggero. La cosa che a me piace di più sono i cantini qui sul collo. Qui che poi scendono. Sono stupendi. E poi scendono sulle spalle, sulla schiena. E poi scendono sulle spalle. Ok. Allora proviamo una parola. Vediamo, 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 vediamo. Sveva. 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 E qui. Che è in diranza. Sveva. I. T. D. D. E. E' un bel set. Ok. E' un bel set. Sveva. Sveva. quindi andiamo un po' a scriverlo a-n-d-a e poi abbiamo c'è scritto una specie di la-la-lendo la-la-lendo scriviamola anche in maiuscolo l-a-l-a-l-a-n-d ok ora andiamo a fare un po' di brushing anzi andiamo prima un po' con un massaggiatore ok 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 allora allora ho una serie di pennelli ho una serie di pennelli qui io ho scelto questi tre super morbidi uno due due e tre e tre e andiamo a fare un po' di brushing un po' di brushing e anche un po' di brushing e anche un po' di surcarlo è super morbido è super morbido e vado un po' prima sui contorni della schiena in questo modo e poi vado a riempire come se fosse un contro delicatamente e and e ok come se fosse un pezzo un po' di e è un po' di l'acqua e tiriamo sul collo sulle spine in questo modo possiamo anche la cosa di sireno devi casa niente che diventa la situazione Usiamo anche l'altro Questi coperti sono bellissimi Questo è molto più largo Non ho mai capito cosa serve con questo pennello Tanto a me serve per fare video E piang piang Piano 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 Acostavate Seguendo le forme della schiena Piano 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 cali bella cali spera